Come ha detto Tommaso, è la prima partita dopo parecchie settimane di Raduno, la prima partita della stagione, quindi questa settimana la affronteremo proprio come test match e quindi anche il lavoro che si fa durante la settimana viene ovviamente disegnato apposta per arrivare a pronta la partita, è anche vero che comunque il carico di lavoro che è stato fatto nelle ultime settimane, che comunque un po' rimarrà durante questa settimana, è importante e quindi probabilmente non saremo nella condizione migliore, ma le partite importanti, non che queste non siano importanti, però la prima partita del mondiale sarà fra un mese, quindi l'obiettivo è arrivare al meglio in quella settimana lì, però è anche vero che è un test match e sappiamo quanto è importante vincere ancora di più per noi e quindi abbiamo voglia di affrontare questa partita nei migliori di modi e prepararla nei migliori di modi. Abbattere chiunque, si fa morale, insomma, l'ultima partita abbiamo giocato contro la Scozza è stato in casa loro appunto di Bullos e Nazioni, è una partita intensa, abbiamo vinto all'ultimo minuto però ogni partita è sé, loro hanno già giocato una partita la settimana scorsa contro l'Irlanda e abbiamo voglia sicuramente di ritornare al rugby giocato, quindi alle partite a chi era fortuna di scendere in campo, insomma, sarà un importante test perché è importante insomma dopo settimane, settimane di lavoro comunque confrontarti e iniziare insomma a fare su sei.